E' operativo da oggi il nuovo hub vaccinale al Palacolle dell'Ara di Chieti. Obiettivo quello di raggiungere specialmente le fasce più giovani della società. Nella provincia di Chieti al momento oltre il 70% dei cittadini ha ricevuto la prima dose. Noi siamo oggi al 72% prima dose vaccinata in provincia di Chieti, siamo messi non male. Chiaramente noi dobbiamo raggiungere l'80%, l'8% sulla città di Chieti. Quindi chiaramente sono tante migliaia di persone ancora da vaccinare, non solo i giovani, anche i quarantenni e cinquantenni che ci mancano in questa città. Per cui questo sito con 300 persone al giorno, chiaramente per due settimane dovrò fare una corsa per giovani e meno giovani per raggiungere prima dose questo obiettivo e poi completare con la seconda dose a fine settembre e inizio ottobre. Sono contentissimo, ha detto il sindaco Diego Ferrara. Nel fine settimana le inoculazioni avverranno solo di mattina, ma a pieno regime, dalla prossima settimana, qui potrebbero essere somministrati anche 600 vaccini al giorno. Oggi sono contentissimo e sono orgoglioso di quanto queste persone, che hanno un grande senso di appartenenza per la propria città, stanno dando. Siamo arrivati in pochissimo tempo, in poche ore, due ore, a già quasi a 300 vaccinati, tutti fatti in pochi minuti, con file ordinate e persone che non finivano di ringraziarci per l'ordine che abbiamo mantenuto durante queste ore. Oggi la vediamo con la sua tenuta da medico, somministerà anche le vaccini? Assolutamente sì, ho voluto essere partecipe, anch'io, da un punto di vista proprio sanitario, oltre che essere la mia vocazione e la mia professione tuttora svolta, ma anche per dimostrare, testimoniare la mia vicinanza ai cittadini che vogliono con questo vaccino, come devo dire, mettersi in sicurezza. Grazie.